Si aggrava la situazione all'ospedale di Sciacca a causa di un problema, quello delle zanzare, che da sempre affligge la struttura. Un problema presente in tutti i reparti, ma che si registra in modo particolare nell'area di emergenza, rendendo impossibile la vita a pazienti e a operatori sanitari. A tutte le ore del giorno e della notte è un continuo lottare contro questi fastidiosissimi insetti. Un'emergenza che ha portato il Tribunale per i diritti del malato a tornare a sollecitare per l'ennesima volta la direzione dell'ASP a risolvere definitivamente il problema. Allarmante, diciamo, non lo dico io, lo dicono le tante persone che frequentano l'ospedale. Prima di protestare, anche mandare una lettera, ho parlato col direttore sanitario che mi aveva detto che sì, stavano provvedendo, però era una cosa che ci voleva tempo. Questo mi ha un pochino allarmato, quindi ho voluto sollecitare la direzione generale perché queste non sono cose per cui si può aspettare. Deve essere un immediato intervento perché siamo in un ospedale e le zanzare non possono stare specialmente in un pronto soccorso dove circolano anche tante infezioni. Credo che sia per la salute pubblica una cosa importantissima. Non solo le zanzare, i problemi del pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca sono anche altri. E anche in questo caso, senza che all'orizzonte si intraveda alcuna soluzione. Il pronto soccorso è sempre in difficoltà, intanto per il personale che è scarso, per i luoghi anche che sono angusti, diciamo, per la popolazione che afferisce all'ospedale di Sciacca. E poi anche perché c'è sempre quel problema del territorio che non è ben coperto e che costringe tante persone ad arrivare in acuzia, quindi ad arrivare al pronto soccorso. E quella è una situazione un po' più, diciamo, generale che dovrebbe essere affrontata da direzione in modo complessivo. Cioè incrementare i servizi sul territorio, cercare di stimolare di più i medici di base a non mandare le persone in pronto soccorso. E quindi quello potrebbe anche essere una diminuzione di utenza nel pronto soccorso. Però in questo momento è emergenza. Mancano anche le coperte, mancano i lenzuoli, manca la carta igienica. Nonostante che la caposala del pronto soccorso è una delle più attive nel richiedere quello che è necessario. Si trova difficoltà anche la caposala del pronto soccorso che è proprio una delle massime, diciamo, persone in questo ospedale che si attiva in questo senso. Quindi la situazione è drammatica per tante cose. Questa, diciamo, è la punta dell'AIC, quella delle zanzare. Oggi non c'è solo la nota del Tribunale per i diritti del malato. È il Comitato Civico per la Sanità a denunciare in un documento trasmesso alla Regione e ai vertici dell'Asp lo stato di degrado in cui verse il Giovanni Paolo II a causa dell'annoso problema degli ascensori che continuano a bloccarsi e delle zanzare. Ma, cosa ancora più grave, dietro l'angolo c'è il rischio di un possibile blocco totale dell'ospedale in caso di mancata proroga dei contratti di medici, infermieri e ausiliari che scadono a fine giugno. Gli ascensori dicono che devono essere sostituiti. Noi speriamo che lo fanno pure con urgenza perché quella è pure una cosa, urgenza, era tutto bloccato, c'era solo un ascensore che funzionava, poi per fortuna si è sbloccato anche l'altro. Quindi dobbiamo sollecitarli ad essere sverti a non aspettare. La preoccupazione maggiore in questo momento è legata al rischio che non vengano prorogati i contratti ai precari. Questo significa eventualmente un blocco dei servizi sanitari? Significerebbe chiudere l'ospedale. Se loro vogliono chiudere l'ospedale bloccano le assunzioni perché il personale già è risicatissimo. Se non rinnovano i contratti a questi già pochi che sono, è la catastrofe. Quindi noi questo lo vogliamo, sia noi come Tribunale di diritto di malato, sia anche come Comitato Sanità, lo vogliamo scongiurare. Quindi abbiamo fatto una lettera abbastanza dura anche come Comitato perché vogliamo che la direzione si attivi immediatamente anche per questa problematica e che faccia subito le assunzioni o le proroghe, quello che poi credono loro di fare. L'importante è che il personale non manchi.